Bentornati e ora in questo prossimo servizio Bruno Mattucci spiega l'andamento del mercato di Nissan e anche l'andamento del settore dei veicoli elettrici dove Nissan è una delle principali protagoniste in tutto il mondo. Ingegnere Mattucci, il brand è stabilmente nella top 10 del mercato italiano, come valuta i primi 9 mesi dell'anno? Devo dire che siamo estremamente soddisfatti, di fatto guardando ai numeri abbiamo un mercato che cresce, cresce di circa il 15% in questi primi 9 mesi, Nissan invece sta registrando una crescita di più del 20% e questo soprattutto grazie a due tipologie di prodotti, la prima è quella di crossover che sta avendo un grandissimo successo, più i nostri competitor ci copiano e più vedo che le nostre vendite aumentano, quindi mi auguro per il futuro che sempre più competitor entrino su questo mercato. E dall'altra il successo anche di Micra che con la versione GPL ha sostenuto in maniera significativa le nostre vendite. Mi preme ricordare poi in questo contesto estremamente positivo per Nissan due risultati di eccellenza. Il primo è quello relativo a Cascai che si conferma ancora una volta il crossover più venduto in Italia, tra l'altro al secondo posto tra tutti i veicoli venduti nel mondo dei veicoli del segmento C e al terzo posto tra tutti i veicoli diesel in Italia. E l'altro primato, anche questo ci rende particolarmente orgogliosi perché siamo tra quelli che credono di più in questo nuovo tipo di mobilità, è quello della leadership di LIF che ancora una volta si conferma il veicolo elettrico più venduto nel nostro paese. Quindi un trend positivo che prevedete di rafforzare con il nuovo programma di Promesso al Cliente. Sì, di fatto è già qualche anno che Nissan ha messo il cliente al centro di ogni attività che pone in atto. Questo lo facciamo nella nostra attività di tutti i giorni qui all'interno di Nissan Italia, ma lo facciamo anche attraverso la nostra rete di vendita, attraverso la sensibilizzazione di tutti quegli operatori che poi costituiscono l'interfaccia tra noi e il cliente finale. Ebbene, all'interno di tutta una serie di programmi abbiamo recentemente lanciato quello che a nostro avviso garantirà maggiore sicurezza ai nostri clienti. Cosa diciamo di fatto? Prendiamo quattro impegni ben precisi. Il primo, diventi cliente Nissan, avrai a tua disposizione un numero verde, gratuito, al quale ti potrai connettere 24 ore su 24, 7 giorni la settimana e che ti darà supporto per qualunque tipologia di problema tu dovessi avere con il tuo veicolo. La seconda promessa, hai bisogno di una vettura sostitutiva? Questa ti verrà garantita in maniera gratuita dalla rete di assistenza di Nissan. La terza promessa, hai necessità di traino? Ebbene, Nissan ti garantisce il traino della tua vettura per sempre. Quindi non verrà mai meno alla tua necessità, appunto, nel caso ne avessi bisogno, di avere la vettura trainata. E poi, l'ultima promessa, ma non la meno importante, è quella che Nissan ti garantisce il miglior rapporto qualità-prezzo di ogni intervento in assistenza. E se troverai nel raggio di 5 km intorno all'officina ufficiale Nissan un riparatore che ti garantisce lo stesso tipo di lavoro, con gli stessi ricambi, ad un prezzo inferiore, noi ti rimborseremo la differenza. Alla luce di queste considerazioni, quali sono le previsioni di vendita per la chiusura del 2015? Di fatto, noi quello che prevediamo è un mercato che si attesterà intorno ad 1.700.000 veicoli e su questo mercato vogliamo raggiungere il 3,8% di quota, che poi rappresenterà il nostro record storico.